Il cuore nel non fare una politica troppo debole, fammelo dire. Se la ragioneria generale dello Stato e in generale una certa burocrazia dello Stato ha acquisito un ruolo così ampio e un ruolo così frenante e conservativo come quello che poi ha svolto in questi anni, è perché a monte manca la politica. In qualche modo è la politica che si deve fare carico. Quando io parlo di una scommessa ambiziosa sulla crescita, per cercare di allargare anche questa coperta stretta delle coperture, perché se noi non facciamo crescita non avremo mai quel denominatore che ci consente la tenuta dei conti pubblici e quindi liberare risorse per l'innovazione. Però questa è una scommessa che può fare la politica, non la puoi chiedere giustamente a ragioneria generale dello Stato. Quindi la prima malattia è nella debolezza della politica che si fa poi imporre delle scelte che sono estremamente conservative da parte di una burocrazia dello Stato che poi finisce per rimanere sempre nelle stesse posizioni e non è un bene che i burocrati siano troppo a lungo nelle stesse posizioni e perciò che il Sole poi ha chiesto un ricambio più ampio. Perché crediamo che come deve la politica farsi carico delle sue responsabilità, così è giusto che poi nell'ambito della burocrazia dello Stato ci sia un ricambio per favorire poi gli input che vengono dalla politica, ma quegli input della politica devono arrivare. Grazie a tutti.